Accidenti, quanto è profondo! Fa anche freddo! Allora ragazzi, che si fa? Si entra o no? Che razza di domande! Sì che entriamo! Ehi me, facciamo una cosa! Che cosa? Perdiamoci! Sì, è un'ottima idea, ma mi raccomando, tu cerca di comportarti come si deve! Tu pensa per te! Io vado a sinistra! Per me va bene, io non ho preferenze! Perché vi siete fermati? La grotta si divide in due! Giuci! Io ho paura! Aiuto! Sta tranquillo!